della registrazione del gameplay tanto gli mettiamo il cazzo a un blocco cerchiamoli accettiamoli agire di uno spazio che avanza in perterrito senza cura dell'unico e un cappone che ruba le prime due kill così l'ha fatta curi ma no va beh ma perché avevano smaltito quello dell'uccisione di un altro o le smart potenziate che mannaccia la togliamo subito devo comparare al culo a sto stronzo che c'è 4 contro 1 e porco di no ragazzi ma noi hanno buon farone se per caso il ciro come quello bene bello e a cazzone che aspetta al barco un pro sicuramente per giocare così bene che aspetta al bar è arrivato un titan nemico che cattore ti offre la brioche c'era bella cattore titan nemico in abitamento sono proprio sotto di suonare cattore caccia labbrioche ma io un po' più come dito ma che dice a me no no curio che dico eh ma a sport io c'ho una vista molto periferica 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 quindi poco periferica eh si eh se arriva davanti il titan non lo vedo proprio eh è vero è vero lo fotti tu o lo fotto io è visibile non lo vedete vabbè allora ci penso io attento a quel titan è sceso occhio eh è sceso con una cattiveria incredibile supreme via ha rischiato di andare i luci ma adesso sono qui da dove vai, da dove vai da già, non all'altra parte che cazzo quando vorremmo che arriva, arriva, arriva e lascia stare oh 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 oh, chi è che l'ha sfasciata qui? no, non va bene, non va bene mi vendiverò sul botto allora, ascolta, io dico che se tu sei qua sopra oh cazzo, un titano mi spara al culo oh, non muore, non muore e dopo, una bella sfasciata un bel confetto al culo e adesso me la posso scogliare oh, sta arrivando arriva, arriva a togliermi dal cazzo tu al cerchio io lo lascio lì di guardia eh oh cazzo oh, questi hanno hanno buttato un cazzo di blisterino al culo è così che hai deciso, fallo oh, vuole scappare, scappa, scappa ma tu hai scappato e si ritorna si ripensa, non vuole più vivere cazzo sto stronzo lo gli devo dare un cazzo di nuca ma ammazzi quello no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no vabbè 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 vorrei dire che ci devo prendere in un altro modo tu vuoi stare lì? te l'ho detto io te l'ho detto, te l'ho detto ma buonapo te l'avevo detto io ma chi è che tira tutte queste granate? è quello là dentro è pronto che ce l'ha dentro sto distanziando l'IMC sempre di più ben fatto capo ma hai fottuto e ma tu il pilota nemico come pensi di ucciderlo? oooohh grande mossa chi mi dà la mano agli vicini qui? che cazzo è che lo sconso di una suicida? che cazzo? che cazzo è successo? che cazzo è successo? ma porca zunza no, non mi diverto così mi vado a fare un giro in campagna io che cazzo è un fottuto qua state vedete quello è mio oooohh da qui si che mi posso divertire occhio levati levati ok oh ce n'è uno su ce n'è uno su tommy tommy ha 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 è World Ryan andiamo a questa casa gli uccellini, uno già è sceso guardate come simbolo di lato che nucleo danni è pronto non ti attenta ai ma praticazioni nucleo danni ma noi amo paratoia vedi sempre con questi giganti con le armi rodeo rodeo perchè rodeo ogni tanto ci vuole sopra questo cazzo bella spapo mamma ancora ancora abbiamo battuto l'IMC ma non è finita intercettate gli spessi prima che giocano ecco fatto ecco dentro eh se mi mirano un titan in su eccolo qua dietro 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 io da qua solo non lo voglio vaffanculo stronzo c'è uno che sta provando a fare il rodeo ma ci sono io sopra non può entrare e l'abbiamo spiacciato guarda un pollo un pollo in faccia ma voglio io il pollo uno sul ponte lassù in alto lo sapete ragazzi leggermente fuori mappa il ponte leggermente fuori tanto beccate questo guardate questa espulsione addosso alla navetta boom così non lo so manco io eccolo 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 qualcuno gli sta sparando va bene ciao ragazzi ciao ragazzi